Il giorno del premio Pisa, Fotoottica, Allegrini e Alfea hanno organizzato un concorso fotografico. Il titolo era Fotografa il premio Pisa 2018 e nei giorni scorsi, sabato per l'esattezza, sono stati svelati i vincitori che hanno già ricevuto i premi messi in palio da Fotoottica Allegrini, oggi rappresentata qua da Laura e Guido Allegrini che ringraziamo per la collaborazione per la loro presenza all'ippodromo. Foto segnalate che sono quelle come da scaletta di Francesca Nocchi, il titolo della foto è In attesa del premio, eccola qua, un momento di attesa prima che il premio Pisa si disputasse, una fase statica, una in movimento, una bella foto, Francesca Nocchi. L'altra foto segnalata dalla giuria è quella di Gerardo Teta, titolo è La Pesa e qua abbiamo uno dei nostri fantini che guarda, non si sa con quale espressione, l'ago della bilancia che segna il suo peso. Al terzo posto si è classificato un amico di San Rossore, Rolando Mannucci, il titolo della foto è The Winner, non poteva essere altro il titolo, la foto ritrae Wait Forever al rientro dalla pista con Cristian De Muro dopo aver vinto il premio Pisa 2018. Il secondo posto è andato a Gerardo Teta, il titolo è La Dama e il Fantino, con un bel primo piano di una proprietaria, sullo sfondo un cavaliere, una corsa per cavaliere ad Amazzoni in questo caso, che sta andando verso la pista. E verso la pista è il titolo della foto che ha vinto il concorso fotografico e l'ha scattata Antonio Genua. Ecco qua, queste le tre foto e adesso abbiamo la consegna da parte del nostro direttore che lascia l'onore della consegna a Laura Allegrini. Iniziamo da Rolando Mannucci, terzo classificato, con la foto The Winner. Anche tu Rolando sei The Winner in questo caso. Secondo classificato Gerardo Teta, che ha avuto anche un'altra foto segnalata. Complimenti a Gerardo. La Dama e il Fantino, più abituato a fotografare che non ad essere fotografato. E il vincitore Antonio Genua per la foto, verso la pista. Complimenti a Antonio. La società Alfea per ringraziare Fotoottica Allegrini ha pensato di realizzare un pensiero, proprio questo è un pensiero per ricordare questa manifestazione che ha avuto un grande successo. Tante le foto che hanno partecipato. E il dottor Castelli, consigliere della società Alfea, la forge a Laura e a Guido Allegrini. Sbrilluccica sotto il sole, la targa che Laura Allegrini ha ricevuto pochi istanti fa dall'Alfea, in ricordo per questa bella iniziativa. Vi siate divertiti? Ci siamo divertiti. Nello scegliere le foto, selezionarle? Assolutamente sì, ci siamo divertiti. C'è stata una buona partecipazione. Era un esperimento, l'abbiamo fatto. Speriamo ai prossimi anni di continuare, di fare cose ancora più belle insieme a Alfea. Due parole anche sulla vostra attività, che è una delle più conosciute a Pisa. È un'attività storica, il negozio Allegrini è a Pisa dal 1840, è passato di generazione in generazione. È mio bisnonno, nonno, babbo, ora siamo io e mio fratello. E speriamo di andare avanti così per altri anni, bene, siamo contenti. Quindi possiamo dire che in linea di massima rimandiamo all'appuntamento per l'anno prossimo. Assolutamente sì, Fotoottica Allegrini è stata sempre vicina a Alfea. Prima c'era il premio Fotoottica Allegrini. E ora invece abbiamo cambiato, abbiamo fatto questa cosa che è molto simpatica, carina, bella da vedere. Poi devo dire che sono stati tanti i fotografi che hanno aderito a questa iniziativa. Ricordiamo anche che queste foto sono esposte fino alla fine del mese nella saletta Giovanni Allegrini, che è in Borgostretto, sopra il nostro negozio. E noi un po' alla volta, come Alfea, ve le mostreremo anche in formato digitale. Però le foto stampate hanno sempre un loro perché. Grazie Laura e grazie a Guido. Arrivederci.